Restiamo alla cittadella perché la protesta si è svolta proprio lì e riguarda i tirocinanti della giustizia. Vediamo. Prima illusi, poi delusi. In mille speravano di interrompere la propria inattività, di aver trovato un'occupazione, almeno per 24 mesi, di poter contribuire al riordino e alla riorganizzazione degli uffici giudiziari che vivono situazioni di carenza di personale, più volte denunciate dalla magistratura. Con queste finalità, infatti, era stato indetto il bando finanziato con fondi regionali diretto a mille disoccupati calabresi che avrebbero avuto accesso a tirocini nella durata dei due anni presso gli uffici giudiziari. I primi segnali che qualcosa non stava andando per il verso giusto si sono avuti quando l'Ital burocratico ha subito gli inspiegabili rallentamenti. Capita, si saranno detti gli aspiranti tirocinanti, consapevoli che la burocrazia, spesso, mette i bastoni tra le ruote, anche ai progetti più lineari. Poi è arrivata la doccia fredda con il blocco della procedura da parte del ministero competente che, come rilevano i sindacati, ha sollevato dubbi e perplessità interrompendo l'iter in corso quando ormai i candidati avevano superato la fase della votazione e attendevano di essere avviati nel percorso di politiche attive che avrebbe alleviato le sofferenze economiche in cui versano. Nei giorni scorsi il presidente della regione Oliverio, al quale i mille aspiranti tirocinanti chiedono di recuperare il tempo perduto, ha contattato il ministro Orlando per chiedere la convocazione di un tavolo tecnico per risolvere la questione che sarà affrontata il prossimo 9 marzo dal ministero, dove si approfondiranno i termini alla convenzione con la regione per l'utilizzo dei tirocinanti. Alla riunione parteciperanno i presidenti e i procuratori generali delle corti d'appello calabresi.